Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni l'onorevole Gianni De Michelis, più volte ministro degli esteri. Con lui non possiamo non parlare delle tristi vicende che stanno caratterizzando queste giornate luttuose per i famosi avvenimenti accaduti in America. Ecco l'onorevole De Michelis, dicevo lei è stato più volte ministro degli esteri, quindi profondo conoscitore un po' dell'ambiente sia medio orientale che americano. Innanzitutto una sua valutazione su quanto è successo e come andrà a finire. Innanzitutto appunto bisogna rendersi conto di corre successo. È stata lanciata una sfida molto alta, è una vera e propria dichiarazione di guerra. Vedo con piacere che sia pure un ritardo di 48 ore anche agli americani e anche al presidente Bush ne sono resi conto. solo in Italia vedo continuare un'analisi assolutamente sbagliata e pericolosa come quella cioè degli atti di terrorismo e questi ragionamenti dobbiamo scoprire colpevoli e punirli come se si trattasse del mostro di Firenze o dell'attentato a Lockerbie all'aereo famoso. Invece appunto, lo ripeto, è stata una vera e propria dichiarazione di guerra. È un avvenimento, possiamo anche questo credo dirlo con certezza fin d'ora, che mette la parola fine è una parentesi che è durata dieci anni dal 25 dicembre del 91 fino all'11 settembre scorso, in cui si è potuto, sbagliando, con i rischi che oggi vediamo che questo comporta pensare con Fukuyama che fosse finita la storia, che quindi ci fosse una prospettiva completamente diversa. In realtà di colpo bruscamente siamo stati svegliati, la storia esiste, ricomincia, ci ripropone i problemi e quindi ci pone il problema di riflettere in maniera molto precisa come rispondere a questa dichiarazione di guerra, a questa sfida. Perché se sbagliassimo la risposta non solo finiremo per essere complici dei nostri sfidanti, ma rischieremo di determinare una situazione che potremmo dover pagare per molti anni, addirittura decenni. Ci aiuta nel cercare di capire come dovremmo rispondere, gli americani innanzitutto, ma gli altri, gli alleati, gli europei, tutti coloro che sono consolidali con una certa visione della democrazia e della vita ordinata in una società civile, l'esperienza del passato. In fondo non dimentichiamoci, proprio dieci anni fa, undici anni fa, nell'agosto del 90, Saddam Hussein, sia pure in forme diverse, a un livello infinitamente meno alto e meno pericoloso, lanciò da una sfida analoga. Quella volta rispondemmo. Credo che dobbiamo far tesoro del modo in cui rispondemmo quella volta. Quella volta la risposta fu sì molto tempestiva, molto decisa, molto dura sul piano della forza, perché una sfida sul terreno bellico deve essersi una risposta su quel terreno, anche questa volta, io non avrei nessuna esitazione a realizzarlo il più presto e non mi preoccuperei del discorso, devo avere le prove, chi è stato, queste sono tutte sciocchezze. Diciamo che c'è una certa sinistra che arzigogola su un intervento deve essere della Nato, deve essere dell'ONU. Ho citato l'esempio di dieci anni fa, perché questa sinistra, guarda caso, anche se è cambiato un po' pelle, faccia, è la stessa che dieci anni fa, per esempio, è stata contro le decisioni che allora noi in Italia prendemmo come governo, in consonanza con gli alleati europei e americani per rispondere a questa cosa. Quindi solo i 9 sbagliavano, loro sbagliano oggi, ma il problema è che non dobbiamo sbagliare noi, quelli che, come si può dire, non abbiamo difficoltà a stare dalla parte, tra virgolette, giuste, ma che ciò nonostante potremmo sbagliare come in parte si è sbagliato in questi anni, adottando quell'atteggiamento da fine della storia che dicevo prima. Quella volta la risposta, ripeto, fu dura sul piano militare e io penso che deve esserlo anche adesso, ma nello stesso tempo fu precisa e intelligente sul piano politico. Noi non ci limitammo a mettere in campo rapidamente un dispositivo militare che alla fine risultò vincente, ma realizzammo una grande alleanza non solo di occidentali ma anche di arabi. Per fare solo un esempio, fino al giorno prima dell'aggressione di Saddam, agli occhi degli americani e degli europei, il paese più terrorista al mondo era la Siria e l'Iraq lo era meno. Poi avvenne questa cosa e capovolgemmo la cosa e ci prendemmo la Siria tranquillamente nella coalizione per isolare Saddam e poi battere. Ma non solo questo. Quella volta noi, convincemmo, usiamo questa parola tra virgolette, noi, gli americani con noi, il governo israeliano e allora il governo in Israele che era un certo Shamir, che non era sicuramente meno falco dello Sharon attuale, il governo era di destra, non era di destra.